Avvocato Giancarlo Nascimbeni, si sono chiuse le indagini sul fallimento della maceratese. Quali sono le accuse a carico della sua cliente, l'ex presidentessa biancorossa Mariella Tardella? La dottoressa Tardella è stata avvisata con informazione di garanzia contestuale alla conclusione delle indagini che nei suoi confronti si procede per una ipotesi nel novero dei reati conseguenti a una dichiarazione di fallimento di qualunque società di capitale, in questo caso la maceratese. Ora, voglio credere che come avviene, ci riempiamo la bocca noi garantisti, tutti noi in Italia siamo garantisti, per dire che un semplice avviso di garanzia non significa nulla. Ora, credo che questo convincimento valga anche per la dottoressa Tardella. Qual è l'accusa che si muove alla Tardella? Innanzitutto bisogna chiarire, e cosa che appariva nel capo di imputazione, ma non è stato scritto in prima battuta, che i fatti contestati alla dottoressa Tardella risalgono alle gestioni 2013 e 2014. Quindi, 4 o 5 anni prima del fallimento e 2 o 3 anni prima di quando la Tardella ha ceduto la società, perdendo ogni possibilità gestoria della stessa. Secondo l'accusa, la Tardella, quale amministratrice, presidente della società e non socia, ricordiamoci che non è stata mai socia della società, mai socia della società, avrebbe finanziato la società con mezzi propri, ovvero finanze personali, o con mezzi finanze di una società, Gulliver Sass, di cui lei era socia ed è tuttora socia comandataria, quando poi la società, ma questo lo deduco, aveva forse la disponibilità economica o per incassi o per contributi o quant'altro, secondo l'accusa parte di queste somme venivano restituite o alla Tardella o alla Gulliver. Quindi noi dovremmo dimostrare che se la Tardella fosse stata socia, allora il conferimento era il cosiddetto conferimento soci, cioè il socio che è antico. Siccome la Tardella non era socio, quel conferimento era stato fatto da se stessa, diciamo, e da Gulliver che era se stessa lo stesso, per cui non si ravvisa chi ne ha tratto danno e chi ne ha tratto vantaggio. I latini dicevano cui proteste, cioè a chi ha giovato questa situazione. Diciamo che ha giovato alla stessa società che poi, quattro anni dopo, cinquanti dopo è fallita, che ha potuto avere delle risorse economiche, grazie al sacrificio economico finanziario che è durato per molti anni, anche con cifre consistenti, della stessa Tardella. Allora, se ciò è, l'accusa dovrà dimostrare che già nel 2013 e nel 2014 la società era in stato di decozione, per cui quelle restituzioni fatte a coloro i quali, che erano poi le stesse persone, come ho detto prima, non lo voglio ripetere oltre, l'avevano finanziata, hanno depauperato il capitale sociale. Ma questo non può essere avvenuto, per fortuna che è una società di calcio, perché tutti voi sapete che i bilanci delle società di calcio sono revisionati rigorosamente a fine di ogni anno, non anno solare, ma anno sportivo, tant'è vero lo stesso Pubblico Ministero parla di bilanci al 30 giugno, da chi? Dagli organi di vigilanza della Federcalcio, rigorosissimi, poiché la società sportiva maceratese, per fortuna o per capacità, è stata sempre ammessa a quei campionati, parlo 13, 14, 15, 16, che poi è stato brillantissimo, quel famoso campionato che ha portato agli spareggi, significa che i bilanci non presentavano anomalie tali da poter considerare perduto o scemato oltre i due terzi il capitale sociale. E' tutto qui il processo. Qual è lo stato d'animo di Mariella Tardella? Guarda, io non ho avuto occasione, da quando è stata pubblicata la notizia, di vederla, ma l'ho sentita per telefono e per scambi e-mail. E' veramente distrutta, perché è stato il suo nominativo, la sua figura, la sua persona è stata, come si dice, sbattuta in prima paglia. Mi dicono, io non uso i social, è che già ci sono state delle reazioni quasi da parte di qualcuno, quasi di giubilo o di contentezza che finalmente si è fatta luce sul fallimento della maceratese e la responsabile è la dottoressa Tardella. Ora, dire questo con un semplice avviso di garanzia, ad indagine chiuse, ma senza che l'indagata si sia potuta minimamente difendere, cosa che cominceremo a fare adesso, secondo me non è un segnale di civiltà che fa onore alla nostra città o comunque alla situazione in cui ci veniamo a trovare.